ciao a tutti ragazzi ciao a tutte ragazze benvenuti e bentornati sul mio canale finalmente sono tornata sul mio canale con un video molto consueto quello della beauty box di look fantastic mensile come sapete sono stata assente per un po di tempo anche se voi mi avete visto sul canale in modo costante perché avevo avuto modo di pre registrare prima della mia partenza i video in modo tale da non lasciare il canale scoperto vi posso garantire che sono stata via un paio di settimane al mio rientro ovviamente c'erano varie box che mi aspettavano e tra le varie box e vari ordini che avevo fatto durante la mia assenza ovviamente ho ricevuto la beauty box di look fantastic del mese di aprile questo mese di aprile la box prende come tema la vera bellezza della donna la vera bellezza proprio della persona e devo dire che i prodotti contenuti all'interno di questa box mi piacciono tantissimo anche questo mese la box ovviamente l'ho ricevuta all'interno di questo cartone questa box in cartone cartone riciclato e all'interno ho trovato ovviamente questo fogliettino ovviamente scannerizzando mettendo la fotocamera su questo qr code avete modo di accedere alla brochure contenuta all'interno inizio col dirvi che lo sneak peek del del prossimo mese quindi del mese di maggio riguarda un prodotto di elemis e in particolar modo ci sarà all'interno della beauty box del mese di maggio vi lascio la foto qui a fianco il tonico di elemis quello lì al ginseng ed è un tonico che sinceramente non ho mai provato ma ho molta curiosità quindi sono davvero molto molto contenta di provarlo il valore di quel prodottino si aggira intorno ai 10 pound quindi siamo intorno ai 12 euro e devo dire che mi incuriosisce tantissimo quindi sono particolarmente contenta devo dirvi però che i prodotti contenuti all'interno della beauty box di look fantastic di questo mese di aprile a un valore di 65 pound e 30 quindi siamo quasi intorno ai 70 euro devo dire che per questo mese hanno scelto una serie di prodotti molto variegati che riguardano non soltanto la cura dei capelli la skin care ma anche la body care e il make up direi di iniziare subito dal make up ho ricevuto all'interno dei vari prodottini ecco questo velvet lip liner di siate london che è un marchio che qui a londra è molto molto conosciuto devo dire che questo prodottino mi piace tantissimo l'ho ricevuto nella scedo coco ed è un matitone ovviamente per le labbra un lip liner che può essere utilizzato sia per delineare i bordi delle vostre labbra ma anche a mo di rossetto il prodotto in questione è questo qui ve lo swatcho e ha un valore di 18 pound quindi siamo intorno ai 20 euro il colore è questo qui è un bellissimo nocciola quindi un nude che vira verso il marroncino molto molto bello e sicuramente proverò e utilizzerò in un video insieme a voi un altro prodotto che mi ha incuriosito particolarmente è un prodotto di skin care ed è una maschera viso ai probiotici questa qui è una maschera di corres questo è un marchio che ultimamente mi sta piacendo tantissimo sapete che ho avuto modo veramente di provare tantissimi prodotti di questo marchio e mi sono piaciuti veramente tutti a partire dal detergente viso al tonico a creme altre maschere e in particolar modo ricordo che l'anno scorso avevo provato una maschera allo yogurt che mi era piaciuta tantissimo ed era una maschera super nutriente questa qui invece è una maschera nutriente e riequilibrante proprio per il viso e è in un formato da 20 ml quindi onestamente ci si può fare veramente varie applicazioni avere la una buona considerazione del prodotto se ne vale la pena o meno acquistarlo questo qui ha un valore di 8 pound in un formato da 20 ml ovviamente in un formato full size ha un costo sicuramente più elevato sono molto contenta di aver trovato questo prodottino e sicuramente lo utilizzerò con piacere poi un altro prodotto che quando ho visto mi ha particolarmente colpita e adesso capirete perché è uno scrub rassodante per il corpo di collistar sapete che io amo tantissimo il talasso scrub di collistar in particolar modo utilizzo quello della linea classica tra l'altro uno di quelli che possedevo in scorta l'ho terminato e lo vedrete poi nel nel video dei prodotti terminati di questo mese di aprile ecco questo qui in particolar modo come profumazione contiene estratto di ciliegia e altri oli essenziali quindi devo dire una profumazione già molto più fruttata rispetto all'altro che invece la profumazione più balsamica quello che mi piace tantissimo non tanto per la profumazione balsamica ma quanto per l'efficacia e proprio per la performance che ha perché scrabba molto molto bene il corpo e grazie alla presenza di oli essenziali lascia una pelle molto nutrita e veramente morbida questo qui è un prodotto ovviamente in formato da 70 grammi quindi anche travel friendly volendo se siete via un paio di settimane volete portarvi giusto uno scrub da fare due tre volte questo qui è perfetto questo qui in particolar modo ha un costo che si aggira intorno ai 7 pound 80 quindi siamo intorno ai 8 euro e 50 ricordo quando ho acquistato l'altro in formato full size di averlo trovato in offerta intorno ai 30 euro però ricordo che a prezzo pieno ha un costo piuttosto elevato quindi sono davvero molto contenta di provare anche quest'altra fragranza passando poi a un prodottino per le unghie ho trovato uno smalto e ho trovato uno smalto di questo brand nails anche l'anno scorso avevo trovato all'interno di una delle beauty box uno smalto dello stesso brand in una colorazione più rosata questo qui invece è un color nocciola e devo dire che mi sono trovata molto molto bene con questi smalti perché a differenza gli altri smalti come ad esempio quelli di kiko questi qui mi durano decisamente di più il costo di questo smalto è di 11 pound quindi è un costo abbastanza elevato ecco però è comunque in un formato full size e la colorazione è bear with me quindi è uno smalto in questa colorazione nude nocciola appunto in questa tonalità bear with me poi passiamo a un prodotto per i capelli perché ad ora abbiamo trovato un prodotto make up un prodotto skin care lo smalto quindi per le unghie è un prodotto per il corpo adesso ovviamente passiamo a un prodotto per i capelli questo qui è un prodotto per i capelli del brand paradox anche questo è un marchio molto molto conosciuto in passato ho avuto già modo di trovare un altro prodotto per i capelli di paradox però non credo fosse appunto lo stesso in particolar modo questo qui è una maschera per i capelli ed è un trattamento che va fatto come impacco appunto pre shampoo viene consigliato di non utilizzarlo nel diciamo costantemente bensì di alternare gli utilizzi quindi magari lo utilizzate una volta poi fate due shampoo e poi magari al terzo utilizzo lo riapplicate questo qui può essere utilizzato sia su capelli bagnati che capelli asciutti va poi pettinato va lasciato in posa e ovviamente diciamo dopo 10 15 minuti lo risciacquate è una maschera idratante e riparatrice per i capelli ed è in un formato da 30 ml il costo di questo prodotto è di 10 pound e 50 e sono onesta anche questo è un prodotto che mi attira tantissimo infine l'ultimo prodotto è un prodotto nuovamente skin care ed è di questo marchio pai anche questo marchio molto molto conosciuto è in un formato piccolo parliamo di 10 ml ed è in particolar modo uno lo struccante con vari estratti all'interno ed è appunto in questo formato qui il costo di questo prodottino qui è di 10 pound e so che comunque un marchio molto molto costoso comunque c'è una quantità di 10 ml all'interno quindi 3 4 utilizzi per 3 4 utilizzi è piuttosto sufficiente quindi facendo un calcolo complessivo il valore di questa box è di 65 pound e 30 infine all'interno ho trovato anche un malo e marcio quindi una uno snack di 70 calorie ed è in realtà cioccolato e vaniglia e marshmallow e appunto una barretta fatta in questo modo che onestamente non mangerò ma darò al mio compagno lui amante di questi snack così e quindi questa era appunto la box del mese di aprilio ovviamente mi scuso nuovamente per il ritardo perché sapete che questo è un video che di solito pubblico a inizio mese ma essendo appunto in vacanza sono stata appunto assente spero ovviamente che la box vi è piaciuta devo dirvi che i prodotti che mi hanno colpito di più di questa box sono sicuramente la maschera per il viso la matita labbra di siate london e ovviamente il talasso scrub in quest'altra profumazione fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa box quali sono i prodotti che appunto vi hanno colpito di più se è una box che promuovete o meno io onestamente vorrei darci un bellotto a questa box perché rispetto alle box passate mi ha colpito particolarmente spero sia piaciuta anche a voi ovviamente se siete arrivati fino a qui mettetemi un bel like di supporto lasciatemi un commento se vi va se ancora non siete iscritti iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo molto molto presto con un nuovo video un bacio a tutti ciao